Sono contento di essere entrato e di aver giocato, certo. Che partita hai fatto, che commento? Sì, sapevamo che era una partita non facile, perché comunque Arsignano era una squadra. Poi venivamo dalla sconfitta, che fa parte del percorso. Io sono arrivato da poco, però questa squadra, quando ho visto l'ultima partita con il Fano, ho visto che era una squadra veramente in salute. Però prendere una sconfitta del genere poteva sicuramente creare delle certezze, però io credo che si può perdere. La squadra è sempre una squadra forte, anche dopo le sconfitte. E oggi ha dimostrato che comunque non era una partita facile. Ripeto, Arsignano sapevamo che ci veniva ad attaccare altri, che ripartiva bene, con buoni giocatori. E siamo stati bravi. Siamo stati bravi soprattutto dopo aver preso il pareggio e aver fatto subito. Ma sai, io ho visto tre partite. Sicuramente ti posso dire che nel girone A c'è Monza che magari ha una squadra forte forte, ma le squadre sono tutte attrezzate anche nel girone A. C'è un sogno che possiamo raggiungere sicuramente. Non sono abituato a calcolare. Sappiamo che sono 12 partite tutte difficili e ne affronteremo una alla volta. Poi noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare a fare quello che ci riesce. E poi, insomma, il campo ci dirà. I pronostici... non mi sento di... insomma... ...